Una nuova lezione, la forma passiva. La forma passiva è una forma che non necessariamente nasconde anche un significato passivo e purtroppo la cosa non si esaurisce con i verbi deponenti. Quindi è opportuno valutare di fronte ad una forma passiva quali possono essere i significati che la stessa forma passiva può nascondere. Allora cominciamo dalla forma passiva più comune laddove la forma passiva ha anche un significato passivo. Io trovo l'audabatur, l'audabatur si traduce era lodato. Tanto per essere completi in questa lezione ricordiamoci che le forme semplici, passive e latine in italiano non ci sono più. Il tempo le ha sostituite con le forme composte latine. Noi in italiano, come vedete, la forma semplice è composta dal verbo essere era poi seguita dal participio passato lodato. Le forme composte per le forme composte si aggiunge stato era stato lodato. Quindi così tucur era lodato e laudatus erat tanto per dire laudatus erat non corrispondono non sono uguali. Sembrerebbe che dovrebbero essere uguali. Erat era laudatus lodato era lodato corrisponde laudatus erat no laudatus erat corrisponde a era stato lodato. Quindi la formula tipicamente lativa dei tempi semplici quello si potrà vedere nella lezione che riguarda appunto le forme verbali che è caratterizzata dalle desinenze er ristur mur mening tur in italiano noi non l'abbiamo più. passiamo ad un'altra possibilità anche questa non è proprio così difficile perché abbiamo la forma passiva con significato attivo e questa cosa avviene con i verbi deponenti io vado a cercare sul vocabolario orto trovo non orto ma ortor ortor ortari sortatus mortari si presenta già così la forma attiva quindi orta batur orta batur si traduce con esortava forma attiva e uno e uno si potrebbe chiedere ma e allora se io devo mettere al passivo ortor come faccio e beh in latino non posso farlo ortor in latino solo il significato attivo quindi o cambio verbo oppure devo utilizzare la circunlocazione o oppure trasformo la frase da passiva inattiva oppure ancora uso la circunlocuzione afficcere con l'ablativo afficcere ortazio ortazione essere affetto da esortazione letteralmente in ogni modo adesso non andiamo a dilungarci per quella strada a noi interessa ricordare solamente visto che dobbiamo tradurre dal latino in italiano e non dall'italiano in latino questo è un problema che nasceva nel momento in cui io dovevo tradurre dall'italiano in latino mi trovavo era era esortato Mario era esortato Mario era esortato dal maestro come faccio a tradurre era esortato? non potevo perché ortavatro vuol dire allora bisognava o cambiare verbo o utilizzare quella circolocuzione che adesso non valutiamo oppure si diceva semplicemente si faceva si passava dalla forma passiva alla forma attiva il maestro esortava Mario e si risolveva in questo momento però adesso noi dobbiamo tradurre dal latino in italiano questo problema non sussiste sarà il latino a presentarsi come deve essere presentato io mi trovo di fronte a un deponente e il deponente che evidentemente lo posso solo individuare o se conosco già a memoria il paradigma o se trovo il paradigma del deponenziale sul vocabolario si traduce in forma attiva ma poi ci sono altre possibilità che sono legate queste possibilità alla forma passiva la forma passiva può nascondere un impersonale evidentemente in questo caso però ci troviamo esclusivamente alla terza persona singolare quindi prima seconda singolare prima seconda terza plurale non passive non possono nascondere un significato impersonale nei composti poi la forma impersonale è rappresentata dalla terza persona singolare neutra quindi si diceva diceva Dictum est si è detto in italiano ecco l'impersonale per lo più si presenta col si da non confondere col si passivante in ogni modo diceva Atur Dictum est diceva Atur si diceva Dictum est si è detto forma impersonale non basta la forma passiva con alcuni verbi può portare il verbo alla forma intransitiva facciamo un esempio augeo augeo vuol dire accrescere augeo rem familiarem accresco il patrimonio di famiglia vedete che qui il verbo è transitivo io soggetto augeo predicato verbale rem familiare è un complemento oggetto quindi il verbo è transitivo se ha complemento oggetto un verbo se ha complemento oggetto o espresso o sottinteso è transitivo in questo secondo caso invece noi abbiamo un augetur che trasforma il verbo transitivo in intransitivo ad esempio res familiaris augetur il patrimonio di famiglia aumenta questo è un verbo intransitivo e portando augeo al passivo il verbo inizialmente transitivo diventa intransitivo si noti che augetur potrebbe anche essere una forma passiva esempio res familiaris augetur a patre a patre il patrimonio familiare è accresciuto dal padre sarebbe ancora più bello in latino mettere lavore a patris lavore dalla fatica dal lavoro dalla fatica del padre quindi evidentemente se c'è un complemento d'agente in questo modo però non c'è bisogno non è complemento d'agente ma causa efficiente non c'è bisogno della A res familiaris augetus patrilabore il patrimonio è aumentato dalla fatica del padre quindi non è detto che augetur perché lo trovi in forma passiva debba avere necessariamente il significato intransitivo in questo caso visto che non c'è d'agente visto che non c'è causa efficiente il passivo trasforma il verbo transitivo da intransitivo e abbiamo il patrimonio aumenta e qui lo cancelliamo perché non ci serve andiamo avanti forma passiva con significato di riflessivo pronominale viene chiamato passivo mediale a volte sul vocabolario alla fine si presenta il verbo all'infinito presente passivo e vicino c'è scritto pass med vuol dire passivo mediale due parole sul riflessivo pronominale il riflessivo pronominale noi sappiamo che in italiano ci sono quattro riflessivi il proprio l'apparente il reciproco e il pronominale nel proprio la particella pronominale fa da complemento oggetto io mi lavo io lavo me nella parente la particella pronominale fa da complemento di termine io mi lavo le mani io lavo le mani a me nel reciproco la particella pronominale fa da complemento di reciprocità noi ci amiamo vuol dire noi ci amiamo l'un l'altro noi ci amiamo tra di noi nel pronominale la particella pronominale non ha nessun ruolo esempio io mi vergogno non posso dire io vergogno me e neanche io vergogno a me quel mi sta lì ha un valore pleonastico è legato al verbo è il verbo che si esprime con questa particella senza dare alla particella una funzione particolare ecco questo è il riflessivo pronominale che spesso non sempre non sempre perché ci sono dei verbi che sono riflessivi pronominali senza avere la forma passiva si prendono soltanto i verbi che reggono l'accusativo gli assolutamente impersonali penited putted e piccite miseret sono tutti i verbi che non hanno la forma passiva e sono riflessivi pronominali altri invece sono come moveo 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 io muovo qualche cosa moveo io sono mosso da qualche cosa moveor ma a volte questo passivo fa diventare il verbo riflessivo qui c'è l'esempio air movetur nobiscum l'aria eccola qui la traduzione del riflessivo pronominale si muove con noi tuttavia se si hanno dei dubbi sul vocabolario ci dovrebbe essere moveri alla fine di tutte le possibilità moveri muoversi pass med passivo mediale ripeto per l'ennesima volta non vuol dire che perché io tutte le volte che mi trovo di fronte al passivo di moveo moveo necessariamente debba essere un riflessivo pronominale potrebbe esserlo andiamo avanti dunque questa invece è una distinzione non so neanche se è opportuno valutare questa possibilità non vorrei creare solamente dei problemi però però c'è c'è questa distinzione vediamo se riesco a spiegarmi perché è una distinzione abbastanza vale per i tempi composti passivi ed è una distinzione abbastanza sottile vediamo di leggere forma passiva con valore di predicato nominale i tempi composti in forma passiva a volte raramente ma capita nascondono un predicato nominale dove la parte nominale è costituita da un aggettivo che corrisponde al participio passato del verbo facciamo subito un esempio fracta erat fracta è un verbo quindi letteralmente è un tempo composto è un più che perfetto indicativo e si traduce era stata distrutta predicato verbale in forma passiva tempo composto non c'è dubbio ma potrebbe anche essere fracta erat fracta inteso come un aggettivo col senso di era distrutta si trovava distrutta quindi un erat copula più nome del predicato come predicato nominale e uno si dice ma come faccio sapere come faccio a conoscere la differenza di traduzione che bisogna vedere dal contesto infatti io dopo scrivo anche se ci possono essere degli accorgimenti e questo vale per tutte le forme tutte quelle passive con valore intransitivo quelle passive con valore con valore riflessivo pronominale quelle che possono confondersi passivo col predicato nominale ma addirittura le forme passive con significato attivo dei deponenziali vediamo di valutare non ci sono regole specifiche per distinguere una forma dall'altra si deve valutare il contesto è evidente che se la forma passiva è accompagnata da un complemento d'agente o di causa efficiente abbiamo un verbo anche di significato passivo ricordiamoci che il complemento d'agente complemento di causa efficiente a o av più ablativo oppure ablativo semplice si trovano solamente con i verbi di significato passivo quindi ho un complemento d'agente causa efficiente ho la sicurezza matematica che mi trovo di fronte ad un passivo non solo di forma ma anche di significato mentre ho aggiunto un verbo deponente decisamente anche se ha la forma passiva ha sempre significato attivo però anche sul verbo deponente bisogna fare attenzione io ho scritto anche in questo ultimo caso però la certezza automatica non è assoluta perché alcuni verbi accanto alla forma regolare delle coniugazioni attive alcuni verbi hanno anche quella deponenziale cioè io mi trovo con un verbo che può essere coniugato come tutti i verbi attivi ma può essere coniugato anche con i verbi deponenziali in poche parole come se io mi trovassi sul vocabolario laudo laudas laudavi laudatum laudare ma anche la forma di ponenziale laudo laudaris laudatum sublaudari quindi l'unica soluzione per dare una risposta alla traduzione in questo caso è valutare attentamente il contesto il contesto laudatum laudatum è